Marte? Oggi niente FBI? No. Come mai? Ma io sono un normale bimbo. Ah, un normale bimbo? Sì. Qualche volta FBI, qualche volta no. Sì. Solita domenica. E dove si va, Vale? Al solito parco. E si fa un video? Ovvio. Questo è il weekend di voto. Tra l'altro si vota anche qui, che è la scuola in cui sarebbe dovuto andare Matteo, ma poi è finito dall'altra parte. Ci sono le elezioni? Europee. Sì. In Italia ci sono anche le elezioni regionali, per esempio in Piemonte, anche in molte regioni. Ci sono anche le elezioni nella mia città, Biella, del sindaco. E noi abbiamo votato, però ovviamente solo per le europee. C'era la possibilità di votare venerdì pomeriggio e ieri tutto il giorno, fino alle 6, qui all'Ipsia, in centro. Noi siamo andati venerdì sera. Abbiamo mangiato fuori dopo il mio lavoro. C'era nessuno alla fine. Se è già aperto fino alle 22, dalle 17. Comodissimo. E niente, quindi abbiamo fatto il nostro dovere. E voi ragazzi cosa avete fatto? Siete andati a votare? Voi che abitate in Germania? O all'estero, fateci sapere. O anche in Italia? Tra l'altro ho sentito che le affluenze sono basse. Parlavano di 25% alle 12. Non è tanto. Non è tanto, l'ultimo aggiornamento. E in Germania dicono che sono aumentato il numero di votanti. Probabilmente anche perché ho aumentato il numero di persone che stanno in Germania. Poi adesso, col fatto che molta gente si è iscritta all'aereo per obbligo, altrimenti fioccano molte belle corpose, e quindi hanno la possibilità di votare, mentre prima non potevano. Quindi ragazzi, nel caso, mi raccomando, andate a votare! È importante perché se no, lasciamo decidere gli altri e poi non ci lamentiamo se non ci piacciono i risultati. Ma di cosa parliamo oggi? Visto che io lavoro con i turni, io parlerò della mia esperienza. E io siccome ho un orario fisso, parlerò della mia esperienza. Vale, ma con la maglia di mercoledì? Certo, perché domani e lunedì si va a lavorare, quindi... Ci sta. Umore funereo. Allora, io parto dalla mia esperienza. Ho iniziato nel 2018, nell'azienda che poi è fallita, la Wirecard famosa, con turni. Quindi potevo lavorare dalle 7 del mattino alle 3 del pomeriggio, oppure dalle 4 alle 10. L'orario era sempre fino alle 10 di sera al massimo, quindi si alternavano. Era qualsiasi giorno, però potevo avere un giorno libero di settimana. Invece poi, dal fine 2019, sono passata a un orario fisso, 8.15, da lunedì al venerdì. Con il nuovo lavoro, che poi è quello attuale, faccio lunedì-giovedì 8.15 e il venerdì 8.14.30. Totale di 32 ore a settimana. Qual è la mia situazione? Allora, io principalmente ho quasi sempre lavorato con i turni. Quando lavoravo all'ADHL avevo l'orario quasi fisso, praticamente quasi sempre la sera, anzi la sera, la notte facciamo che dire, però di solito un orario abbastanza fisso. Adesso che lavoro al supermercato, il mio orario è molto variabile. Forse l'avevo già detto in altri video, è spalmato su sei giorni, quindi da lunedì al sabato, dalle 7 alle 22. Ovviamente cinque giorni lavorativi, faccio 28 ore e mezza. E la minata del mio lavoro è che purtroppo so l'orario di settimana in settimana. Allora, l'orario fisso, come i turni, ha i propri pro e contro. Allora, per quanto riguarda i pro, posso dire che il mio orario è molto comodo, nel senso che io so che alle 3 o alle 2 e mezza del venerdì finisco e quindi riesco ad avere il pomeriggio libero, riesco ad andare a prendere Matteo, riesco a portarlo a logopedia e quindi ad organizzare la vita. Cioè, riesco comunque a far conciliare impegni, riesco a farmi le cose anche in casa, quindi tanto comodo. Altra cosa che mi piace molto nel mio orario è il fatto che lavoro principalmente al mattino. Io adoro lavorare al mattino, mentre detesto lavorare al pomeriggio. Dopo pranzo comincio a sentire veramente un calo della concentrazione, dell'attenzione, mi viene sonno. Non ho voglia, ho voglia di fare altro. E quindi per me il mattino lavoro in bocca e quindi va benissimo. E poi un'altra cosa buona è che il sabato e domenica ce l'ho sempre liberi, quindi è proprio uno stacco, due giorni di completo stacco, che per me sono fondamentali. Ovviamente hanno anche i loro vantaggi. Avendo un lavoro che è spalmato in settimana dalle 7 alle 22, ne ho sempre uno libero. E talvolta il giorno libero è in settimana. E quando ho il giorno libero in settimana, ne approfitto per fare le mie cose, mi faccio la mia passeggiata al mattino, mi posso dedicare ai video, mi posso dedicare al canale, mi posso dedicare anche a fare dei lavori in casa, ed è veramente impagabile. Una cosa anche buona, che mi piace, è anche averli misti. Quindi nella stessa settimana posso fare magari il mattino un giorno, il pomeriggio un altro. E quindi non è noiosa la cosa. Non ho sempre il mattino libero, ma variano. E quindi questo mi piace. Un altro vantaggio è che per esempio, avendo tutta questa flessibilità, quando sono in ferie, posso magari far partire le mie vacanze da sabato, dalla settimana prima, e rientrare il lunedì, in modo da fare martedì-sabato di lavoro. E quindi le settimane di ferie si allungano. Io purtroppo questa fortuna non ce l'ho, la settimana è di 5 giorni, e quindi per le ferie è più complicato, poi siamo in pochi. Posso magari partire il sabato, perché naturalmente è libero, però non posso tornare il lunedì. E anche magari partire il venerdì è complicato, perché devo lavorare. Una cosa che mi piace è avere un po' di flessibilità, e oltretutto la domenica e i festivi sono sempre libero. Allora naturalmente l'orario fisso ha anche dei contro, non è tutt'ora quello che luccica. Una cosa che mi manca di quando facevo i turni, talvolta un giorno in settimana a casa. Mi piaceva molto, era anche uno stacco, perché trovo che 5 giorni consecutivi di lavoro siano abbastanza pesanti e faticosi. Ma perché dico che un giorno in settimana libero è comodo? Perché puoi organizzarti meglio? Per esempio se devi fare delle visite mediche, di solito le danno appuntamento al mattino. Qualsiasi commissione al sabato è un casino, perché molti uffici magari sono chiusi, nei negozi comunque in settimana c'è meno gente. E invece così devi fare un po' i salti mortali, nel senso che le visite mediche devi prenotatele al pomeriggio, tardi. Se le prenoti al mattino magari al lavoro ti fanno storie, devi poi recuperare le ore. E' un casino, non mi piace. Ma tutto questo ha anche dei contro ovviamente. Per esempio quando faccio la sera non vedo Valentina e Matteo, perché Matteo sta a scuola fino alle 4, Valentina lavoro fino alle 3, io magari alle volte inizio alle 3, inizio alle 4 e finisco alle 10. È una rottura di scatole. Tipo sta settimana che viene mi fa tutte le sere sera, fino alle 10, tranne il venerdì. Quindi noi praticamente fino a venerdì non ci vediamo. Oltretutto fare la sera a volte è noioso, per quando la faccio spesso, tipo la prossima settimana come ha detto Vale, tutti i giorni farò la sera a parte il venerdì. Ma fare la sera il sabato pomeriggio, sabato pomeriggio e sabato sera, è un sabato buttato, rovinato. A noi il sabato ci piace fare il giro in centro, ci piace mangiarci la pizza in famiglia. E quando lavoro la sera è rovinato, perché dobbiamo mangiare magari il venerdì o la domenica, non è la stessa cosa, non fa festa. No, per niente. Ma quindi, orario fisso o turni? Per me la soluzione ideale è l'orario fisso, perché mi permette di staccare di più, di avere tempo libero, di godermi il pomeriggio, che per me è fondamentale, e la sera, perché lavorare la sera per me è terribile, quindi orario fisso tutta la vita. Come ho detto prima, ci sono pro e contro in entrambe le cose, però forse avere l'orario fisso sarebbe comunque meglio. Alle volte, per esempio, quando devo organizzare, non so, una visita medica o delle cose, magari mi capita che mi vogliono dare appuntamento, io devo organizzarmi per giostrare i miei turni in modo da poter andare all'appuntamento. Quindi non so mai se tra tre settimane sarò libero, piuttosto che no. Quindi da quel punto di vista forse preferisco l'orario fisso, almeno saprei organizzarmi meglio. E poi anche come il tempo di famiglia è impagabile. Allora, una cosa che non sopporto del suo lavoro, che come ha detto prima Roberto, gli danno i turni sempre della settimana dopo, verso giovedì o venerdì. E quindi organizzare le cose è un casino nero. Non possono fare, non so, un gruppo WhatsApp, o un gruppo mail list, non lo so. O comunque dare turni per un periodo di tempo più lungo. Quindi volevamo dare qualche spunto su questa cosa. Voi cosa ne dite? Preferite orario fisso o turni? Voi cosa fate? Per chi lavora, ovviamente. Fateci sapere nei commenti la vostra. scateniamo un bel dibattito su questo argomento. Ad esempio una cosa che mi piaceva nell'altro lavoro erano i turni, però ti davano i turni per tutto il mese successivo. Addirittura di HL lo davano tutto l'anno quando lavoravo. Comodo, veramente comodo. Sì. Vabbè, comunque fateci sapere la vostra. Noi vi ringraziamo per averci seguito. Continuate a supportarci. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.